Siete ma come hai portato a fatta chi sta? Ma scusa tu hai conciuto il telefono? E ti hai portato la tua soluzione mobile? Appunto chi sta con i mobili? Ma mobile nel senso mobile, noi mobili da cucina. Ah chi era la stanzelietta? Ma vuole la stanzelietta trasi Buongiorno come posso esservi utile? Dobbiamo aggiustare un telefono e siete nel posto giusto Che difetto fa? Che cosa si è rotto? Ma come fornire ricci queste cose? Ricci la verità? Ricci come hai fatto care in terra? No, sinceramente io ti prendo il minario e poi ti prendo il telefono Ma ma che fa sempre che si è fatto? Ma signori non vi scaldate che ha già fatto capra, a tutto c'è il rimedio, il telefono lo ripariamo noi Ma non lo dite neanche per scherzo, noi qui abbiamo soltanto ricambi di alta Qualità? Eh va a voi, se ne ci sembra così No no, fidatevi Ah va a voi ah? Allora cagliate mette i piedi Ma si passa, caroni, i dati mette i ricambi appuzzuttata, a me non mi mettono i li là a voi Non vi preoccupate, è stata male all'arte, noi abbiamo il nostro tecnico Flash, 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 flash Hai capito a chi è che è una flash? Ho piacere, sentite, ma mi sono strada in mano per affincio a stu cosa ma Cosa chiamo con bar? A chi chiami tu? Ho con bar, ho con bar in battesi, ma ora non compri nessuno se si fanno le acute, hai capito? Ma quale settimana? Noi facciamo le riparazioni express Hai capito che fanno? Le riparazioni express Ah no, grazie, mi prendo il caffè E allora chiamiamo il bar e prendiamo quello che volete, perché veramente ci vuole il tempo di un caffè E allora veramente voglio riuscire a vedere su fatti Flash Che dobbiamo fare qua? Stanno due pazzi qua fuori, sono venuti per aggiustare lo schermo, hanno scassato tutto il telefono Ah ah ah, io so magari sono più pazzi loro, la mamma è che mi piace Flash Flash Se hai rotto il cellulare non puoi farne a meno neanche per un attimo, Solution Mobile è la soluzione Solution Mobile ripara il tuo dispositivo in modalità express, così non dovrai aspettare giorni per averlo Solution Mobile è anche vendita di prodotti nuovi, usati e ricondizionati PC, tablet e Mac Siamo tecnici esperti di microsaldature su schede madre Ci trovi ad Afragola in via Pelliccia 7 e prossimamente anche ad Aversa Cercaci anche sui social, Solution Mobile, la soluzione in tempo reale Ecco a voi Ah, chi è questo? Ah, io, come va a fare serie? Abbiamo il telefono Ah, sono andato sul telefono a caparranzare, capito? E' altrimenti che ci ha acconso il nostro Signore, non avete capito, questo è il vostro Ah, carolico, il nostro ce l'hanno regalato, capito? C'è qualcuno l'ha venuto acconciato, non saremmo venuto a prendere qua Oh, ma siete davanti, non avete capito, chi è questo? Il telefono vostro me l'ha già acconciato Oh, grazie Ti l'ho detto che facciamo riparazioni express Hai capito che hai detto? Ah, hai capito, ho fatto un cofetto, ho fatto un po' Ma voi andate accadendo, oggi non ho avuto il telefono a presa Eh, posso non me ne ho dato a voto? E tanti che si mette a voto, non c'è ne ho dato a voto Ho pure la vota buona che avevo cattato nuova Eh, con questa mano che ti ha chiesto Con questa mano, con la mano Tanto noi siamo anche rivenditori di cellulari, sia nuovi che ricondizionati Ah, venne pure ricondizionato ora Ma, buono, non mi chiedi solo una pistacchiera Ah, allora nonna non bambino Ora, se non vaneata, vado a rostia tutti e due IATOVERIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII